Musica Trasferire la sezione fanese del Tribunale di Pesaro alle maestre piene venerine. A richiederlo, nei giorni scorsi, sono stati alcuni avvocati di Fano, scontenti dell'attuale sistemazione di Viarco d'Augusto. Una proposta non valida per il Sindaco di Fano Stefano Guzzi, che parla invece di una nuova destinazione. Che il Tribunale abbia un disagio a causa di spazi non è da oggi perché è da sempre. Quello è un palazzo di proprietà comunale adibito a sede di staccata del Tribunale di Pesaro, però ha spazi in parte inadatti e sicuramente insufficienti a quelle che sono le proprie funzioni. Si è aggravato particolarmente quando c'è stato alcuni anni fa un crollo dovuto a dei lavori pari che si stavano svolgendo a piano terra, non lavori comunali. Le parti di quel palazzo rese inagibili a causa di questo crollo sono state recuperate liberando dallo stesso palazzo i locali degli archivi. Abbiamo spostato l'archivio in altre proprietà comunali, occorre trovare un'altra sede. Quella che l'Avvocato Magnanelli, per orato ci ha parlato anche più volte, di alcuni locali da prendere in affitto qui in città. Intanto non è detto che siano disponibili a darli in affitto, che siano adatti. E appesantirebbero indubbiamente il bilancio del Comune di Fano perché quello dove attualmente c'è il Tribunale è di nostra proprietà. Noi dovremmo invece andare a pagare un affitto, poi le ripercussioni vanno su tutti i cittadini. Ma sono spazi non adatti al Tribunale, avrebbero bisogno di una ristrutturazione, di una rivisitazione, di un adattamento e sempre comunque qualcosa di provvisorio. Noi come amministrazione comunale stiamo lavorando ad una soluzione che sia definitiva, di spazi adeguati, che fossero di proprietà comunali. Stiamo lavorando seriamente per questa soluzione. Potremmo anche raggiungerla in non molto tempo e questo sì in maniera definitiva. Durante la consueta conferenza del venerdì il Sindaco ha anche parlato del bilancio di previsione 2010, presentato venerdì 5 febbraio ai sindacati. Nel documento programmatico non sono previsti aumenti ai costi dei servizi. Il bilancio è di fatto definito quest'anno e non ci saranno aumenti di tasse di nessun tipo. Ci saranno invece da discutere sul fatto che noi vogliamo dare un serio incremento alla raccolta differenziata e lì magari l'ASE dovrà rivedere in parte anche le tariffe. Come bilancio comunale non ci saranno aumenti di tasse, non ci saranno tagli alla scuola, anzi lì ci sarà un incremento perché aprirà una nuova scuola materna a settembre, non ci saranno tagli al sociale. Sul resto c'è un risparmio generalizzato. Avendo meno trasferimenti regionali e nazionali, avendo non più entrate di prima perché le tasse non le aumentiamo, conseguentemente dobbiamo avere una politica di grande attenzione, ma sono sicuro che riusciremo a fare un buon bilancio a queste condizioni. Grazie a tutti.